Ciao bellissimi, se sei il nuovo benvenuto, io sono Giulia e ho creato Time to Live per dare l'ispirazione, per dare la motivazione e aiutare le persone a sentirsi più felici, più in salute e ad amarsi di più. A superare quello che io stessa ho superato, disturbi alimentari, senso di solitudine, di tristezza, ero la maestra indiscussa dell'autosabotaggio, non mi piaceva nulla di ciò che ero e ciò che avevo, non accettavo il mio carattere, la mia persona, volevo cambiare tutto di me. E il fatto è che io non mi conoscevo, non sapevo realmente chi fossi, quindi non sapevo in che direzione andare, quali fossero i miei sogni, i miei obiettivi, i miei desideri. E per anni io invece di fare un lavoro su me stessa cercavo approvazione e amore dagli altri, da qualcosa di esterno e non sapevo che l'unica cosa che avrebbe potuto salvarmi era dare amore a me stessa. Non mi rendevo conto che tutta la forza e le altre caratteristiche che io volevo avere erano in realtà già dentro di me, non mi rendevo conto che io avevo tutto ciò di cui avevo bisogno, avevo la salvezza nelle mie mani dentro di me e io non la vedevo. Poi un giorno ho cominciato a prendermi cura di me stessa, di darmi amore senza rendermene conto inconsciamente, perché avevo problemi di salute. Quindi a un certo punto ero diventata disperata, avrei fatto qualsiasi cosa e ho scoperto l'ingere naturale. Da quel momento tutta la mia vita è cambiata, io sono cambiata drasticamente, mi sono sentita per la prima volta felice. Questo perché è successo soprattutto? Cosa che mi ha fatto fare il click? Era l'aver dato amore a me stessa e aver fatto qualcosa per me. Chiaramente questa trasformazione poi ho dovuto mantenerla, ha avuto il mio stato d'animo alti e bassi, come è normale che sia. Ho creato quindi nuove abitudini, ho sostituito quelle malsane, nocive, con altre sane e positive. Poi ho iniziato questo viaggio alla scoperta di me stessa, sono stata sette mesi in centro e sud America, di cui quattro da sola. Ho imparato ad accettarmi e ad accettare la mia realtà, ad essere felice per quello che avevo dovunque e con chiunque. E ho imparato che non solo attraiamo ciò in cui crediamo, ma soprattutto attraiamo ciò che siamo, ciò che decidiamo di essere. Ho capito che l'unica persona che poteva cambiare la mia vita ero io. Questo programma che io ho creato per te si basa proprio su questo, sui studi che ho fatto di educazione, di igiene naturale e sulle cose che io ho provato sulla mia pelle. Quello che mi ha aiutato quindi a diventare felice, a credere in me stessa, nei miei sogni e a raggiungerli e a creare la mia realtà. Quindi andremo a creare nuove abitudini sane e positive che andranno a sostituire quelle vecchie. Se anche tu hai voglia di creare nuove abitudini, di vivere una vita più felice, più serena, rilassata, senza stress, più positiva. Se hai voglia di imparare a darti più amore, a prenderti cura di te stesso e di raggiungere i tuoi obiettivi, i tuoi sogni, unisciti nel gruppo e partecipa al programma. Metto tutte le informazioni qua nell'info box, così puoi vedere i dettagli del programma e non dimenticarti che io sono sempre qua. Puoi aggiungermi su Facebook, scrivermi e possiamo anche farci una videochiamata così vediamo se possiamo lavorare insieme e se questo programma fa il caso tuo. Grazie per aver visto il video, iscrivetevi, mettete mi piace e ci vediamo presto.